Una puntata di Polifemo dedicata alle tradizioni, alla cultura. Siamo infatti a Lizzano e stiamo girando di casa in casa per le tavole di San Giuseppe, la festa di San Giuseppe. Una tradizione bellissima, tanto amore, tanta partecipazione, tanto sentimento religioso da parte degli abitanti di Lizzano. Siamo con il sindaco di Lizzano, l'avvocato Dario Macripò, una tradizione che si ripete di anno in anno e si vive con una passione sempre nuova e sempre più forte. La passione che anima tutte queste famiglie che ospitano le tavole ormai da tanti e tanti anni, una tradizione che si rinnova di padre in figlio. Voi siete qui da Vito Berdicchia, poi vi siederemo anche tutte le altre. C'è un Vito Berdicchia nonno, ma c'è anche un Vito Berdicchia nipote che continuerà questa tradizione. È bello poter vedere poi tanta gente che si riunisce per creare questo ben d'indio. Una creazione dell'uomo stupende in onore di una tradizione a beneficio di tutti coloro che storicamente possono attingere dalla tavola di San Giuseppe. Nasce come un modo di sostenere il viandante, il povero, ma sostiene tutte le famiglie di Lizzano. Non c'è famiglia di Lizzano che non viene a visitare la tavola e che non porta via a casa un pezzo di pane, un pasticcino, il grano stumpato. Tutto ciò che le mani sapiente di tanti devoziosi creano in onore di San Giuseppe.